L'11 febbraio la chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, che in questo giorno apparve per la prima volta nel 1858 nella grotta di Massabielle, tra i Pirenai francesi. Ad una pastorella, Bernadette Sobiro, a Lourdes, attorno a quella grotta, è sorto uno dei santuari più visitati al mondo. In occasione di questa ricorrenza la giuria della seconda edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa Beata Vergine Maria di Lourdes, presieduta dal poeta e scrittore Rosario Lagrega di Brolo e composta da qualificati esperti di comprovata competenza e serietà, ha stilato all'unanimità la graduatoria finale delle tre sezioni e rende noti i nomi dei vincitori. I vincitori delle tre sezioni sono Sezione A, Poesia e Lingua Italiana, avente come tema La Beata Vergine Maria di Lourdes, Prima classificata Silvia Ragazzini di Sissa Trecasali. Secondo classificato Giulio Radaelli di Albiate. Terzo classificato Carmine Iossa di Marigliano. Premio speciale della giuria Antonietta Saviero di Termoli. Premio speciale della giuria Nerina Poggese di Cerro Veronese. Sezione B, sezione Poesia e Lingua Italiana a tema religioso. Primo classificato, ex equo, Don Giovanni Maurilio Raina di Savigliano. Primo classificato, ex equo, Gianni Iannuale di Marigliano. Secondo classificato, Bruno Castelletti di Verona. Terza classificata, Lolita Rinforzi di Assisi. Premio speciale di giuria Rita Adrizzani di Arluno. Premio speciale di giuria Grazia Dottore di Messina. Sezione C, sezione Poesia e Lingua Italiana a tema libero. Prima classificata, Luisa Di Francesco di Taranto. Seconda classificata, Clelia Cavallo di Latiano. Terzo classificato, Giovanni Macri di Barcellona Pozzo di Gotto. Premio speciale della giuria, Luigi Di Nicola Antonio di Falconara Marittima. Premio speciale della giuria, Antonio Barracato di Cefalò. È possibile visionare tutta la graduatoria finale a partire dall'11 febbraio 2022 sul sito www.rosariolagrega.it. Il fondatore, presidente del premio, poeta e scrittore Rosario Lagrega, ha deciso con tutti i componenti della giuria di assegnare all'unanimità il premio speciale alla memoria della scrittrice, poetessa e pittrice Fiorella Silvestri alla poetessa Isabella Michela Finito di Fiuggi. Per la poesia, la città di De Chirico. Il premio istituito quest'anno si prefigge di ricordare l'artista Fiorella Silvestri di Ostia Lido, recentemente scomparsa, un'artista poliedrica dall'innato talento sia nel campo letterario che in quello artistico. La giuria ha inoltre reso noto i nominativi delle associazioni che si sono distinte nel campo della solidarietà e del volontariato, a cui saranno conferiti riconoscimenti internazionali. Per la solidarietà il riconoscimento internazionale è stata assegnata l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Per il volontariato il riconoscimento internazionale è stato assegnato all'associazione Emergency. Il fondatore e presidente del premio internazionale di poesia religiosa Beata Vergine Maria di Lourdes, poeta e scrittore Rosario Lagrega, ringrazia di vero cuore tutti i poeti che hanno partecipato al premio e coloro che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di questa pregevole iniziativa.